Agriumbria, 68.000 metri quadrati di aria espositiva, Agriumbria, 433 espositori, Agriumbria, 82.169 visitatori, 170, 171, 172, crescono, 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 Agriumbria, perché è la mostra mercato che da 50 anni coinvolge e valorizza l'intera filiera agricola, Agriumbria. Sa bene che agricoltura, zootecnia e alimentazione sono i grandi ambiti economici che vivono insieme e si sostengono a vicenda, Agriumbria, perché il primo anello della filiera economica è la zootecnia, perché dove c'è allevamento c'è agricoltura, Agriumbria, un settore espositivo di mezzi meccanici che propone soluzioni tecnologiche di grande valore, Agriumbria, rassegne, concorsi, aste, Agriumbria, la vetrina dell'agroalimentare italiano che dimostra tutta la sua vivacità nella qualità, innovazione e tracciabilità dei prodotti, che vuol dire identità territoriale. Insomma, made in Italy, Agriumbria, 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 dillo, mostra nazionale agricoltura, zootecnia e alimentazione, ridillo, mostra nazionale agricoltura, zootecnia e alimentazione, non è uno scioglilingua, è Agriumbria. Salta la fila, vai sul sito www.agriumbria.eu e acquista il biglietto.